Strada della vergogna al confine tra Santa Maria di Licoddia e Ragalna, tra i rifiuti, tanti abiti, frigoriferi ed eterni. Salta una doppia seduta consigliare a Paternò, la maggioranza non c'è più, guerra aperta dopo le nomine assessoriali, il vice sindaco Ignazio Mannino contro l'assessore Vito Rao. Importante il risultato per il liceo Verga di Adrano che si qualifica per le Olimpiadi Nazionali di Matematica, soddisfazioni di preside e docenti. Ha preso il via a Catania e provincia la settimana nazionale per la prevenzione oncologica Lilt. Apertura ieri nel capoluogo si chiude domenica a Belpasso e Paternò. Buonasera e benvenuti a questa edizione di lunedì 18 marzo 2018 di IVI24 Notizie. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licoddia hanno arrestato il 56enne Carmelo Sidoti in esecuzione di un ordine per l'espiazione di pena detentiva emessa dal Tribunale di Enna. L'uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Centuripe nell'Ennese il 14 luglio 2014, dovrà scontare un residuo di pena equivalenti a 4 mesi e 19 giorni di reclusione. L'uomo, assolto le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare. Calogero Perdicaro, 44 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Adrano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di eroina. Nel corso di un servizio mirato, la squadra mobile e il commissariato di Polizia di Adrano hanno proceduto al controllo di un'auto con a bordo l'uomo che ha subito mostrato evidenti segni di nervosismo. Sospettando che Perdicaro potesse nascondere qualcosa, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultato nella tasca del giubbotto, un involucro contenente 13 grammi di eroina. Rinvenuti poi nell'abitazione, altri 4 involucri per un peso totale di 13 grammi, nonché una bilancia di precisione. Perdicaro è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima. Una nuova strada della vergogna, quella al confine tra Santa Maria di Licodia e Ragalna, che ormai da mesi sorge indisturbata, nell'indifferenza di tutti. I cittadini hanno denunciato il fatto anche alla Procura della Repubblica. I dettagli dello scempio nel prossimo servizio. Una nuova strada della vergogna, l'ennesima ai piedi dell'Etna, quella ripresa dalle nostre telecamere nella giornata di sabato, con cumuli di immondizia, anche pericolosa, che si trova sui cigli della parte alta della strada di Fora, dove i comuni di Santa Maria di Licodia e Ragalna si incontrano. Una sorta di terra di mezzo dove nessuno, istituzioni comprese, sembrerebbero interessarsi di quella bomba ambientale che è scoppiata da tempo e che da mesi continua ad inquinare il terreno. Il tutto ad opera dei soliti sporcaccioni di turno, che preferiscono insozzare l'ambiente con il lancio del sacchetto di immondizie dal finestrino o dal cofano, piuttosto che procedere con una regolare differenziazione del rifiuto che diventerebbe risorsa. Iniziando il tour della vergogna lungo la strada incriminata, dall'incrocio con la SP4 seconda, basta percorrere qualche curva verso nord per imbattersi subito in una serie di copertoni, probabilmente di auto da corsa, abbandonati nei pressi di una rientranza. Proseguendo il percorso, lo scenario di degrado ambientale diventa apocalittico, imbattendosi in resti di eternit altamente pericolosi, in montagne di vestiti abbandonati e, per non farsi mancare nulla, anche in grandi quantità di fogli bituminosi, eliminati probabilmente da una copertura di qualche abitazione. Presenti anche i consueti frigoriferi e i laterizi da costruzione che peggiorano di certo la situazione. Tra la tanta spazzatura abbandonata è possibile notare anche delle confezioni di cibo, fortunatamente vuote, con il marchio della comunità europea, che viene distribuito gratuitamente dalle locali Caritas. Sulla vicenda abbiamo sentito anche un cittadino licodiese che in quella zona possiede un terreno coltivato ad uliveto. Come potete osservare c'è una discarica di materiale di vario genere, materiale anche inquinante come l'eternit, ma poi copertoni, plastica, materiale che è difficile da smaltire, vestiti, insomma tutto quello che è un materiale inquinante. Abbiamo fatto la denuncia alla procura, ai Carabinieri di Raganna, al Comune di Raganna e all'Associazione Lega Ambiente. Una situazione certamente ingresciosa che deturpa ancora una volta la bellezza di un territorio martoriato dall'inciviltà e dall'incuria. I Carabinieri della stazione di Paternò hanno arrestato il pregiudicato paternese 43enne Luigi Rizzari, sorvegliato speciale di polizia, con obbligo di soggiorno in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Rizzari dovrà espiare la pena di 8 mesi e 28 giorni in quanto ritenuto colpevole di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2014 e il 2015 a Gela e Montedoro nella provincia nissena. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania Bicocca. I Carabinieri della stazione di Paternò hanno denunciato tre pregiudicati del posto poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei furti nelle zone agricole della provincia etnea, fenomeno purtroppo sempre più diffuso. I militari di pattuglia hanno sorpreso il terzetto mentre caricavano su di un autocarro Peugeot gli oltre 100 kg di arance rubate poco prima. Le arance rubate sono state consegnate a un ente benefico. Non ce l'ha fatta la piccola Chiara Sant'Angelo di 12 anni di Adrano che ormai da mesi lottava contro un clioma del tronco encefalico. La sua giovane vita si espenda nella mattina di ieri all'ospedale Garibaldinesima di Catania dove era rientrata dall'ospedale Gaslini di Genova dopo che i genitori avevano deciso di ricoverarla nella speranza di trovare una cura al brutto male che improvvisamente l'aveva colpita. Nel mese di dicembre scorso la famiglia aveva anche lanciato una raccolta fondi attraverso una piattaforma online per sostenere le spese mediche necessarie che aveva superato la quota di 4.000 euro. Le eseque saranno celebrate domani alle 15.15 all'interno della parrocchia San Paolo di Adrano. E parliamo di politica. Maggioranza consigliare nuovamente assente. La scorsa settimana paternò sulla surroga dei due consiglieri divenuti assessori. Il tutto si ricollegherebbe alla recente nomina dei nuovi componenti dell'aggiunta Naso. Sentiamo il servizio. Riuscirà ancora il sindaco di paternò Nino Naso a sostenere che la fatidica riunione del 28 febbraio scorso, quella sulle anticipazioni di liquidità per 2.600.000 euro andata clamorosamente buca, fallì per volere delle opposizioni. Per come sono andate le cose negli ultimi giorni in consiglio comunale a paternò sarà arduo continuare a perorare questa tesi. Sul finire della scorsa settimana infatti la maggioranza consigliare che lo sostiene, o forse lo sosteneva, si è letteralmente liquefatta sia giovedì sia venerdì, con la conseguenza che non è stato possibile surrogare i consiglieri dimissionari nominati assessori. E tutto ciò all'indomani della nuova giunta e delle dimissioni da presidente della Commissione Cultura della consigliera Barbara Conigliello. Insomma il rimpasto che sulla carta doveva rasserenare l'ambiente e rilanciare relazione amministrativa ha prodotto l'effetto contrario. Una parte dei consiglieri di maggioranza appare in disaccordo con il primo cittadino. Le cronache politiche raccontano di una guerra fra i due assessori. Ignazio Mannino, vice sindaco, e Vitorau provenienti dalla stessa lista paternò on, ma ormai distantissimi. Il primo vicino a Fratelli d'Italia, il secondo alla Lega. Anche in casa PD i malumori in una fazione sono evidenti per la mancata nomina della consigliera Conigliello, a cui è stato preferito Gulisano. A ciò si aggiunge la richiesta crescente di una parte DEM di lasciare la giunta ormai dominata da uomini di destra. Insomma, bella gatta da pelare per il sindaco che si ritrova oggi al centro di una crisi politica dopo aver trascorso tre mesi cercando di evitarla. Ma questa volta non cerchi altrove i colpevoli, li trova tutti in casa sua. Lettera dei consiglieri di opposizione al Consiglio Comunale di Paternò, Condorelli, Sinatra e Orfanò di Forza Italia, Virgilito di Paternò 2.0, Di Stefano di Diventerà Bellissima e Lopresti. Inviata al prefetto di Catania, all'assessore regionale alle autonomie locali, al procuratore della Repubblica, al presidente dell'ANAC, al comando provinciale dei Carabinieri, al comando provinciale della Guardia di Finanza, su presunte anomalie all'interno del comune di Paternò. Da tempo, si legge nella nota, nel comune accadono episodi e circostanze che appaiono inquietanti e prive di qualsiasi pregio giuridico. Tra i fatti indicati nella nota, che mette nel mirino il sindaco Nino Naso, diverse questioni che riguardano il rinnovo di un software comunale all'azienda Acquedotto, la nomina del segretario e il rimpasto. Quando espresso nella nota, si legge, infine, non può non far invocare un rapido e risolutivo intervento al fine di rimuovere le gravi e persistenti violazioni normative e procedurali poste in essere dall'amministrazione comunale di Paternò. In merito agli ultimi avvicendamenti inerenti alle nomine assessoriali e alla conseguenza crisi di maggioranza, l'ex candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle, Salvo Ladelfa, ha voluto esprimere il proprio parere attraverso una nota. Mentre il primo cittadino continua ad arrambicarsi sugli specchi, questa città muore tra debiti, sporcizia e insicurezza urbana, afferma Salvo Ladelfa. Il sindaco, che doveva rivoluzionare la politica paternese, ha solamente preso in giro chi credeva in lui, consegnando Paternò nelle mani del più vecchio sistema politico, paralizzando un consiglio comunale e un'intera comunità. E mi vergogno che un'amministrazione qualche settimana addietro gettava accuse verso il Movimento 5 Stelle locale. Caro sindaco e consiglieri di maggioranza conclude la nota, smettetela di giocare con la vita dell'agente e siate più responsabili, fate un mea culpa e dopodiché prendete una decisione, o rassegnate le dimissioni o iniziate a fare quello per cui siete stati votati, ovvero amministrare. È stato allestito sabato scorso il banchetto informativo del Movimento 5 Stelle biancavillese all'interno dell'iniziativa Plastic Free contro l'abbandono dei rifiuti di plastica in natura. L'informativa è stata mirata anche all'invito alla cittadinanza ad usare delle forme alternative alla plastica, così da ridurre l'inquinamento. Per noi, Maria Grazia Castro. Un pomeriggio dedicato all'informazione mirato all'abbattimento dei rifiuti di plastica con un conseguente calo dell'inquinamento, quello organizzato sabato scorso a Piazza Roma a Biancavilla dal locale Movimento 5 Stelle. A spiegare l'iniziativa un attivista del Meetup biancavillese Marco Vinicio Mastrocola. Questa è un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente, peraltro non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo, che mira a sensibilizzare verso tutta la popolazione al non utilizzo della plastica, che è uno dei flagelli che sta ormai colpendo un po' il mondo e che sta inquinando la qualità della nostra vita. In particolare noi chiediamo al nostro comune, come è già stato fatto in tanti altri, di limitare l'utilizzo della plastica in tutte le strutture comunali, nelle scuole, negli uffici comunali, negli ospedali, ovunque sia possibile, quindi soprattutto per quel che riguarda le bottigliette di plastica, ripristinare l'utilizzo delle braccia, le fontanelle d'acqua e quindi fare tutto il possibile perché la quantità di plastica prodotta venga ridotta al minimo. Addirittura in alcuni comuni sono riusciti anche a convincere gli esercizi a non utilizzare gli imballaggi di plastica. Questa è un'iniziativa molto importante che, ripeto, al di là del colore politico dovrebbe interessare tutti perché noi viviamo in un'isola straordinaria, di una bellezza straordinaria, però purtroppo soffriamo la presenza sempre più ingombrante non solo della plastica ma comunque dei rifiuti in generale. Qual è l'impressione che hai avuto oggi qua con i cittadini biancavillesi? Inizialmente sono tutti un po' timorosi, come qualsiasi iniziativa, noi l'abbiamo forse proprio nel nostro DNA, però quando poi parli con la gente, quando si rendono conto che stai facendo qualcosa che può servire al migliorare la qualità della loro vita e sicuramente quella delle generazioni future sono molto interessati, come potete vedere, si fermano, parlano, discutono e questa è la cosa importante perché poi è importante che in una società, in un contesto sociale ci sia un dibattito, si discuta ma poi si prendano delle iniziative e quindi noi chiediamo che questo comune aderisca a questa iniziativa che è Plastic Free come hanno fatto da tante altre parti. Nota del consigliere paternese di Diventerà Bellissima, Anthony Di Stefano, sui prossimi lavori all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Scrive il consigliere che in passato è stato anche impegnato nel comitato per l'ospedale. Le notizie che giungono a proposito dei lavori pronti a partire nei prossimi mesi all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò confermano l'impegno del governo musumeci che non è venuto meno alla parola data. Il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri dall'assessore regionale Ruggero Razza e dal deputato regionale Giuseppe Zitelli presso il nosocomio paternese sono il sigillo ulteriore ad una serie di interventi che erano attesi da anni e ad appelli che erano rimasti inascoltati. Oggi arriva la dimostrazione dell'attenzione sul territorio da parte delle istituzioni regionali. Le battaglie e la passione messe in campo dal comitato per l'ospedale chiude Anthony Di Stefano hanno trovato una seria risposta da parte della buona politica. Importante traguardo per gli studenti del liceo Verga di Adrano che hanno ottenuto il secondo posto alle gare di matematica a squadre sulla fase provinciale. Vittoria che rappresenta comunque e lascia passare per le olimpiadi nazionali di matematica organizzate dal MIUR. Sentiamo il servizio di Maria Grazia Castro. Il liceo Verga di Adrano ha raggiunto ancora una volta un importante traguardo classificandosi al secondo posto dopo il Galileo Galilei di Catania alle gare di matematica a squadra a fase provinciale. Gredino intermedio del podio che vale comunque la classificazione alla 35esima edizione delle olimpiadi nazionali di matematica che si svolgeranno a Cesenatico dal 2 al 5 maggio prossimi. Ai nostri microfoni il dirigente scolastico Vincenzo Spinella e il professore Elio Becciani. Anno dopo anno da certamen a olimpiadi matematica e fisica riusciamo a piazzare quello che è il liceo Verga, le competenze dei nostri studenti a livelli ragguardevoli. Quest'anno la novità in matematica noi e il Galileo di Catania siamo riusciti a entrare nella fase finale che si svolgerà a Cesenatico nel mese di maggio. Questo risultato è un risultato storico per la scuola però non è un risultato casuale perché è da 4 anni che noi lavoriamo su questo progetto ed è stato un crescere dei risultati. Questi sono i 13 splendidi ragazzi di Ennio e quindi squadra che in totale hanno conquistato la fase nazionale. È un progetto per cui voglio ringraziare il preside che ha creduto in questo progetto, ringraziare gli altri docenti, in particolare quelli di matematica perché vuol dire che hanno lavorato bene all'interno delle loro classi e il personale della scuola che comunque ha garantito la loro presenza durante i nostri allenamenti pomeridiani. Il messaggio che io voglio mandare è che qui in Alverga si può fare matematica, anzi si fa matematica e se si vuole la si può fare anche ad alti livelli perché noi ci siamo classificati per l'unione finale ad alto livello. Al di là del piacere di partecipare al gare e magari vincere dei trofei il fine del progetto è far crescere l'interesse per la materia ed offrire ai ragazzi delle opportunità per poter crescere. È stata un'esperienza molto emozionante, un'esperienza unica anche perché io sono un ragazzo del quinto anno quindi sarà la mia unica esperienza ed è stato un risultato veramente grandioso ottenerlo e adesso speriamo di fare una bella figura, anzi noi ci condiamo di fare una bella figura alla fase nazionale a Cesenatico. È stata completata nella giornata di ieri, entro i termini previsti, la costruzione del prefabbricato da adibire a farmacia sul territorio di Fleri, realizzato dalle associazioni di volontariato Protezione Civile e Misericordia di Adrano, Rangers di Nicolosi, Parrocchia Santissimo Crocifisso di Santa Maria di Licodia e Radio Flash. L'iniziativa è stata portata a termine dai tanti volontari che con un lavoro incessante dall'alba al tramonto per quattro giorni consecutivi hanno donato una struttura importante per questo territorio martellato dal sisma dello scorso 26 dicembre. Tanti gli attestati di stima che i volontari hanno ricevuto per l'iniziativa. In corso in tutta Italia la settimana nazionale per la prevenzione oncologica della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Volontari in piazza ieri nel capoluogo Etneo. La chiusura dell'appuntamento che mette al centro la prevenzione avverrà domenica a Belpasso e Camporrotondo. Sentiamo il servizio. Ha preso il via sabato scorso in tutta Italia la settimana nazionale per la prevenzione oncologica promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. A Catania ieri banchetto della Lilt in piazza Giovanni Verga per la promozione della cultura della prevenzione e per l'adesione all'associazione. Quanti si sono iscritti hanno ricevuto una bottiglia di olio extravergine di oliva 100% italiano. Testimonial della campagna per le sue indiscusse proprietà benefiche. In provincia di Catania la settimana di prevenzione oncologica si concluderà domenica con i banchetti in piazza a Belpasso e Camporrotondo. Ma qual è il senso dell'iniziativa risponde la presidente della Lilt di Catania Aurora Scalisi. Il senso della settimana di prevenzione oncologica della Lilt è proprio quello di richiamare le coscienze e non abbassare mai la guardia rispetto alla prevenzione oncologica. Moltissimi tumori sono ormai prevenibili ed è ormai acclarato che la prevenzione rappresenta l'unica arma. unica arma proprio per evitare il distress psicofisico legato ad una diagnosi di questo tipo e anche per realizzare una non duplicazione delle spese sanitarie. Come l'Ilt facciamo tutto quello che si può fare dal punto di vista di prevenzione primaria, quindi nelle scuole a partire dalle primarie fino alle scuole superiori. Facciamo quello che possiamo nella prevenzione secondaria con ambulatori nostri lavorando con ottimi medici proprio sulla prevenzione e facciamo tutto quello che possiamo nella prevenzione terziaria per aiutare in tutti i sensi chi ha avuto già una diagnosi di tumore. Quello che chiediamo con la settimana di prevenzione proprio in posti di aggregazione come questi, in questo caso a Catania, è proprio quello di fare la testimonial di se stessi, quindi non dimenticare gli appuntamenti che possono salvare la vita. Ancora protagonisti alcuni vandali alla tensostruttura di Adrano. Nella serata di ieri i gnoti hanno provato a forzare la maniglia della porta d'ingresso della struttura sportiva Adranita, casa dell'Adrano Basket e della San Giuseppe Adrano Volley, senza però apportare danni all'interno. La società Adranita che gestisce la tensostruttura ha subito allertato il commissariato di polizia locale, i cui agenti hanno poi effettuato un sopralluogo. L'episodio fa seguito a quello dello scorso gennaio, quando sconosciuti danneggiarono le panchine, i canestri e distrussero lo striscione, la mafia fa schifo, poi ricostruito grazie a una raccolta fondi. E siamo al calcio. Nella 27esima giornata del girone B di eccellenza, il Biancavilla ha ceduto nello scontro al vertice contro la marina di Ragusa, mentre il paternò ha superato abilmente tra le mura amica lo scordia. All'alto campo di Ragusa, il Biancavilla di mister di Gaetano subisce dopo appena 7 minuti la rete dei padroni di casa, firmata da Alessandro Arena. E nonostante la superiorità numerica per buona parte del secondo tempo, l'11 ospite non è riuscito ad agguantare il pari. Adesso sono quattro i punti che separano le due compagini, con il marina sempre più vicino alla promozione in D. Al Falcone Borsellino di Paternò, i padroni di casa Rosso Azzurri superano 3-0 un rimaneggiato scordia e continuano adesso più che mai la corsa per un posto in zona playoff. Nonostante due calci di rigore sbagliati, prima da Taormina e da Zumbo, le reti di Lentini, Asero e Romero regalano alla compagine paternese tre punti fondamentali. Nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C Silver di basket, l'Adrano, in visita al Basket School di Messina, viene beffato a soli 7 secondi dalla fine dal quintetto padrone di casa, vedendo sfumare la vittoria. È costretto a cedere 75-74. Adraniti, per gran parte del match, hanno tenuto bene le redini del gioco ed arrivano ad un soffio della fine in vantaggio di tre punti. Poi la tripla ed il successivo tiro libero hanno condannato alla sconfitta la compagine del coach Bonanno. Sconfitta rotonda 3-0 anche per le ragazze del San Giuseppe Adrano Volley, che nella quintultima giornata del campionato di pallavolo di Serie C femminile, cedono al Comiso secondo in classifica. Una sconfitta che regala le Adranite al terzultimo posto di classifica. Questa era l'ultima notizia di questa edizione. Vi ricordiamo che potete rivedere il Tg attraverso i nostri siti ivtv.com e iv24.it oppure potete contattarci attraverso la mail redazione chiocciolaiv24.it. Inoltre potete rimanere costantemente aggiornati con le notizie del territorio attraverso i nostri canali social cercando la pagina ivtv e attraverso il canale telegram di iv24. È veramente tutto, buona serata e arrivederci alla prossima edizione di iv24 notizie. Grazie a tutti!